Il museo da Pinocchia perché è una gara che ci tengo molto, sono tutti bambini che giocano questo passaggio, che danno la gente e poi mi giocano, certo che devono metterci tutto per arrivare, questo è vero, ma non dando questa responsabilità. Quando arriva la ragione di uno, se uno cade e piange perché è caduto, la mamma lo sgrigge e io sgrigo alla mamma. Abbiamo anche il presidente dell'organizzazione del Pinocchio, il signor Giacchini, ci fa piacere come eccellenza sempre toscanale, di una gara che ormai è a livello internazionale e che per noi è un vanto come Toscana e come Italia. Passiamo alla premiazione. Alla premiazione. Abbiamo questa opera in mano a morte di arte umane, rappresenta il logo della Vittarini, con il nome Pietro Vittarini, ma in realtà è una viscesista, e l'immagine di un discorso che sta stilizzata. Questo è bello. Sì, questi sono i fiori. Fiori. Grazie. Vi prendo e facciamo. Oh, questo è il testo. Noi, se non è più di fare questa è un'imagine di un'imagine di un'imagine di un'imagine di un'imagine di un'imagine di un'imagine. Grazie. No, 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 no.